Abbiamo perso un buon tre punti, se avessimo fatto un sollevamento più difficile avremmo potuto guadagnare questo posto. Quindi con questo margine di miglioramento, considerando che anche la vostra prima esperienza a livello senior è in una situazione, in un contesto europeo, soddisfatto? Sì, assolutamente soddisfatto, addirittura abbiamo anche migliorato il nostro punteggio totale sia nel libero che nel corto rispetto a quello che avevamo fatto nelle gare junior. La vostra allenatrice sarà soddisfatta, ti chiedo cortesemente Luca e ti ringrazio di passare la cuffia a Rosanna Durante, mentre in tanto stanno iniziando la loro prova Clara Kadlekova e Petra Vidar della Repubblica Ceca, ottali dopo lo short program. Una battuta per sapere se sei soddisfatta della tua cuffia? Molto soddisfatta, veramente, anche perché non so se hanno già parlato i ragazzi, ma Luca non è stato molto bene un paio di settimane fa, quindi gli allenamenti che abbiamo potuto fare non sono stati diciamo come da programma. Quindi sulla base di questo posso dire che veramente è andato il massimo e non posso essere che soddisfatto. Rosanna, se ti fa piacere, guardiamo insieme intanto la prova della copia della Repubblica Ceca, poi andremo a commentare anche la classifica fino a questo momento. Certo Tipo un salco flanciato, bellissimo, molto lungo, atterraggio bello morbido. Questa è una cosa che ci è piaciuta tantissimo ieri durante il coro perché dava proprio una sensazione di dinamismo. Sicuramente deve crescere dall'aspetto coreografico e tecnico, però veramente grande potenziale. Questo è un salco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Triple flip lanciato, caduto. Grazie a tutti. 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 Come coppia, la loro prima esperienza ai capitanti europei, già ieri sera ci sono molto piaciuti perché davano l'impressione di essere molto dinamici, potenti e comunque anche per la loro poca esperienza cercano di presentare i loro elementi con quelle piccole difficoltà che permettono di avere un punteggio da parte dei giudici sia del pannello tecnico più elevato. Rosanna. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.